Ne ha fatta di strada Alibaba. Dalla creazione, avvenuta 15 anni fa nel monolocale del fondatore Jack Ma, il sito di e-commerce cinese si è trasformato in un impero da 140 miliardi di dollari, che ora annuncia di voler sbarcare a Wall Street con l'aiuto di sei banche, in quella che potrebbe diventare la più grande quotazione dai tempi di Facebook. Una mossa per riprendere slancio dopo che nel 2013 la sua quota di mercato in Cina è calata al 45.1%. Il problema principale di Alibaba è che non sta dominando nel commercio elettronico mobile. Le aziende con cui lavora, come l'applicazione di messaggistica Line, non hanno realmente portato una svolta, devono trovare una soluzione. Altrimenti Alibaba potrebbe presto vedersi raggiunta dai tanti concorrenti che vogliono la sua corona, ad esempio JD.com, meglio posizionata sul settore mobile, grazie alla partnership con Tencent, sviluppatore della popolare applicazione WeChat. A questo si aggiunge la fuga dalla sua piattaforma elettronica di molti marchi famosi che hanno scelto di aprire dei negozi di e-commerce per conto loro.